Musica Ritrovati nel Bresciano i 300 quintali di alluminio rubati all'azienda Profiglas Conclusa con tre denunce all'operazione Lingotti dei Carbinieri di Fano Da Pesaro ad Ancona non si fermano le proteste contro il Green Pass Imposto sui luoghi di lavoro, giovani e adulti insieme per dire no alla dittatura sanitaria Tamponi e assalto alle farmacie di turno A Pesaro ieri testa fino a notte fonda per ottenere un Green Pass Nessuno è risultato positivo al Covid Dalla gestione della pandemia al futuro delle marche La giunta a Quaroli stila il bilancio del primo anno di governo Tra emergenze e progetti per una nuova visione della regione Tra poco dopo il telegiornale Torna in diretta a Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Serio Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Lo avete sentito dai titoli Sono state recuperate dai carabinieri le oltre 300 tonnellate di alluminio Del valore di circa un milione di euro rubate all'azienda fanese Profiglas Denunciate tre persone originarie di Brescia Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Letizia Marchionni I carabinieri della compagnia di Fano Assieme ai colleghi del nucleo investigativo di Pesaro Venerdì scorso Hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro penale Emesso dalla procura della Repubblica di Pesaro Nei confronti di un 54enne bresciano Indagato in concorso con un 50enne e un 45enne Originari della provincia di Brescia Per concorso e ricettazione Aggravata dall'ingente valore di oltre 300 tonnellate di alluminio puro Di proprietà della società Profiglas di Fano Tutto a inizio il 14 settembre scorso Quando presso l'interporto di Genova Sono arrivate da Singapore oltre 300 tonnellate di alluminio Del valore di circa un milione di euro Acquistate dalla Profiglas che ne ha commissionato il trasporto Ad una ditta di Urbania Quest'ultima impossibilitata da sola a trasportare l'intera merce Ha incaricato attraverso una piattaforma internet Altre due ditte per procedere al ritiro del carico Gli autoarticolati delle due società subappaltate Che erano in tutto 14 Hanno quindi prelevato il materiale Che però non è mai arrivato nei magazzini della società fanese Portando così la Profiglas e la ditta incaricata del trasporto A sporgere denuncia Dopo approfondite indagini Si è scoperto che le due società che avevano ricevuto l'incarico Erano fittizie Ed erano riconducibili a soggetti campani Gravati da precedenti per reati contro il patrimonio E che gli autoarticolati erano stati utilizzati in passato Per reati della stessa specie Con danni altrettanto rilevanti per le società committenti Grazie ad un lettore di targa I carabinieri sono riusciti a risalire Ad una ditta di rottamazione situata a Mazzano In provincia di Brescia Il ritrovamento della merce è avvenuto tramite un lettore targa system In uno dei comuni dell'Interland Bresciano Che sostanzialmente stigmatizzava il passaggio di uno dei 14 autoarticolati Che furtivamente avevano prelevato il materiale presso l'interporto di Genova Le indagini si sono concentrate in quella zona Ed è stato possibile individuare appunto questa ditta di rottami Facente capo appunto al 54enne Bresciano Dove sono state ritrovate le 300 tonnellate di alluminio Nonché ulteriore materiale ferroso di provenienza illecita E anche numerosi scaffali di vino di una nota azienda trentina Il 54enne Bresciano, titolare della ditta Risultato essere di fatto il custode del materiale illecitamente trafugato È stato denunciato per ricettazione in concorso Aggravata dall'ingente danno patrimoniale Assieme ad altri due Bresciani di 45 e 50 anni Ancora cronaca, due dei componenti del gruppo di giovani Ritenuto responsabile della strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo Ora sono destinatari insieme ad altre due persone Di un'ordinanza di custodia cautelare Emessa dal GIP del Tribunale di Bologna Su richiesta della DDA A fronte dell'ipotesi di reato di lesioni personali Detenzione abusiva di armi, ricettazione Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti E violenza privata Il tutto con l'aggravante di reatti connessi ad attività mafiose Tra i desenatari delle misure Tre in carcere e uno ai domiciliari C'è il ventenne Ugo Di Porto Figlio di Sigismondo Quest'ultimo ritenuto reggente del clan dei Casalesi In provincia di Modena I militari hanno scoperto che alcuni soggetti coinvolti Nell'inchiesta su Corinaldo Erano in possesso di armi Successivamente i carabinieri di Modena Hanno arrestato un uomo sempre legato al gruppo Poiché trovato in possesso di cocaina E di due pistole rubate Inoltre è emerso che Ugo Di Porto Dopo aver avuto un diverbio per futili motivi con un altro giovane Lo aveva malmenato Per poi coinvolgere gli altri destinatari Dei provvedimenti cautelari a disposizione del clan Affinché gli procurassero un'arma Da utilizzare per risolvere la controversia Trieste chiama Ancona Risponde È solo una delle tante frasi impresse sugli striscioni sventolati Nel presidio di via Mattea d'Ancona Nella zona del Porto Dove continua la protesta contro il Green Pass Continua la protesta contro il Green Pass sui luoghi di lavoro in tutta Italia Mentre sale la tensione a Trieste Dove la polizia in mattinata È intervenuta attivando gli idranti ed esplodendo lacrimogeni Per sgomberare il varco 4 del porto della città dai manifestanti Che hanno atteso seduti a terra Ad Ancona invece la situazione è stata più tranquilla Ma il presidio nella zona del porto della cittadorica È proseguito anche nel fine settimana Noi siamo il popolo italiano Noi siamo il popolo italiano Noi siamo il popolo italiano Una protesta partita lo scorso venerdì Quando i lavoratori dei cantieri avevano bloccato Utilizzando anche un mezzo pesante Fermo in mezzo alla carreggiata L'accesso a nord alla zona portuale di Ancona Ancona risponde Trieste chiama Ancona risponde Trieste chiama Ancona risponde Come recita uno dei tanti striscioni Appesi dai manifestanti in via Enrico Mattei Qui centinaia di persone durante il weekend Hanno continuato a protestare contro il Green Pass Sui luoghi di lavoro Noi siamo il popolo italiano Noi siamo il popolo italiano Il lavoro è un diritto Il Green Pass un ricatto Si legge sui cartelloni Non solo i portuali di Ancona Ma anche tante altre categorie di lavoratori Soprattutto del settore sanitario Provenienti da tutte le marche Inclusa la provincia di Pesaro Urbino Adulti e bambini Si sono riuniti tra cori e striscioni Al grido di No Green Pass Nelle ultime 24 ore Nelle Marche si sono verificati Tre decessi legati al coronavirus Tra le vittime c'è una donna di 95 anni Residente a Mondolfo Tra le nuove diagnosi invece I positivi riscontrati sono 37 Di cui 21 in provincia di Pesaro Urbino Negli ospedali della regione I ricoverati sono 54 Meno uno rispetto a ieri Sale leggermente il numero dei pazienti In terapia intensiva Mentre calano di due i degenti In semi intensiva E a Pesaro Le farmacie sono state prese d'assalto Anche ieri da centinaia di persone Che hanno dovuto eseguire un tampone Per ottenere il Green Pass obbligatorio Per entrare nei luoghi di lavoro E boom di tamponi in tutta Italia Con le farmacie prese letteralmente d'assalto E centinaia di persone in fila per ore Con il numerino in mano In attesa del proprio turno Infatti in vista della ripresa lavorativa di oggi Che obbliga i non vaccinati Ad avere un Green Pass Si è assistito a una vera e propria corsa Ai test rapidi E questo è lo scenario Che si è presentato fino a notte fonda Nella farmacia San Salvatore a Pesaro Una delle più impegnate ad eseguire i tamponi Qui la gente arrivava fino in strada Via Marsala Folla anche in altre farmacie della provincia Le criticità è ovvio che ci sono In una situazione come questa Da quanto il governo ha annunciato Il Green Pass obbligatorio Per i lavoratori E' aumentata di molto La richiesta direi in modo esponenziale Noi ci stiamo organizzando Abbiamo sette farmacie su Pesaro Una su Gabice Che fanno i tamponi Tutto il giorno E abbiamo anche attivato un'app tamponale In Viaggioliti Di fronte alla nostra farmacia Che in qualche modo E' riuscita a dare le risposte Agli utenti Che ci sono state richieste Attraverso la prenotazione Ha proseguito il presidente di Aspes Luca Pieri Siamo riusciti a dare una risposta Alle richieste che ci sono pervenute In questi giorni Aggiunto ci stiamo potenziando Allungando gli orari di tamponatura Solo domenica sono stati superati 400 test E nessuno è risultato positivo al Covid Credo che di media Potremmo arrivare a 800 Nelle nostre farmacie Nella vaccinale E quindi diciamo che Rispetto alle richieste degli utenti Nei prossimi giorni Potremmo andare a regime Anche proprio come dicevo prima Con un'organizzazione Che permetterà di spalmare Durante le ore del giorno E tutti i giorni E quelle che sono le esigenze Di tamponatura Da parte dei lavoratori E a spiegarci invece L'andamento del nuovo punto Dedicato ai tamponi È Lorenzo Fontanella Procediamo Siamo molto berati di lavoro Però continuiamo a procedere Andiamo avanti per oltranza E facciamo il fattibile Siamo già tutti assunti a full time Quindi adesso Un ampliamento dell'orario È possibile Ma da valutare tante cose ancora Visto che siamo in rodaggio Stiamo procedendo Più spediti che possiamo E poi Continueremo Qui sono stati riscontrati Dei positivi al virus? Allora Ieri pomeriggio no Nessuno Stamattina Uguale Nessuno positivo È capitato in settimana In qualche farmacia Ma dei casi molto sporadici Però sapevamo che erano stati a contatto Quindi erano anche molto dei controlli Che potevano esserci Esprimiamo sdegno Per lo spettacolo indecente Di file interminabili E per l'umiliazione Cui sono sottoposti i cittadini Così in una nota Il comitato No Green Pass E non toccati i minori Abruzzemarche Che definisce le file davanti Alle farmacie Per fare i tamponi Un sopruso di stato Ricordando anche che Ad esempio in Germania Solo per gli adulti I tamponi sono a pagamento Con un prezzo di 75 centesimi Indegno Il prezzo di mercato Imposto in Italia Hanno aggiunto Obedienti alla Costituzione Pacificamente Continuiamo a manifestare Il nostro dissenso Contro il recatto dello Stato Gravissimi disagi Di chi è costretto A pagare caro A caro prezzo Un servizio Divenuto essenziale Per la cittadinanza Tutto ciò Ha scritto il comitato Sembra perfettamente in linea Con l'indirizzo del governo Che genera scontri sociali Trasformando la crisi di tutti In opportunità Per pochi Cambiamo argomento Una scossa di terremoto Di magnitudo 3.8 È stata registrata Alle 14.54 In provincia di Macerata A pochi chilometri Da visso E a una profondità Di 10 chilometri La scossa è stata percepita Anche in provincia Di Ascoli Piceno In particolare Ad Arquata del Tronto Non risultano richieste Di soccorso O comunicazioni di danni Ai vigili del fuoco E ci spostiamo ad Ancona Perché oggi sono stati Illustrati A un anno Dall'insediamento I risultati di governo Della giunta Acquaroli Dalla gestione della pandemia Alle infrastrutture Dall'edilizia ospedaliera Al turismo La giunta Acquaroli Si è riunita oggi A Palazzo Raffaello Per presentare alla stampa Il bilancio Con i risultati Conseguiti Nel primo anno di governo Il presidente Francesco Acquaroli Ha sin da subito Ringraziato tutta la squadra Ribadendo il grande senso Di responsabilità E l'unità di intenti Devo dire che colgo Questa occasione Per ringraziare appunto Tutte le forze politiche Ma anche Singularmente Tutti i componenti Di giunta e maggioranza Perché Mi fanno avere Un sostegno Che non è mai scontato A volte la politica Ti costringe A rispondere A una logica Parziale Immediata E ti impedisce Ti inibisce Invece Di mantenere fede A una visione Un po' più alta E complessiva Sono stati 12 mesi Complicati Ha raccontato il governatore Dove insieme alla gestione Sanitaria e sociale Della pandemia Abbiamo messo le basi Per costruire Quella visione Di nuova regione Che abbiamo raccontato In campagna elettorale Punto d'orgoglio E la vaccinazione Ha proseguito Acquaroli Che oggi tocca L'84% Delle prime dosi Tante le iniziative Messe in campo Per la lotta al virus Tra queste Il potenziamento Delle usca Gli screening di massa Il numero unico regionale E il covid hotel E le 237 terapie intensive Che ancora oggi Permettono alle Marche Di mantenersi in zona bianca Prezioso anche Il supporto Della protezione civile Sempre in tema di sanità E' stato ribadito Lo stop agli ospedali unici La realizzazione Dei tre nuovi nosocomi A Pesaro Macerate San Benedetto Oltre alla riqualificazione Di dieci ospedali Tra cui Fano Fossombrone Cagli Urbino Pergole Senigaglia Le Marche poi Per prima in Italia Hanno attivato La ventilazione meccanica Nelle scuole Perché la sicurezza E la qualità Dell'aria respirata Dai ragazzi Arriba Dito Acquaroli E' importante oggi Per la pandemia E domani Per garantire ambienti Più salubri E accoglienti Fondamentale Anche il sostegno Alla ripresa post-covid In particolare Alle imprese Vero motore dell'economia Si è puntato anche Sulla ricerca E l'innovazione Con bandi ad hoc Per agevolare Una fase di aggregazione Delle imprese E affrontare meglio Così la sfida Della globalizzazione E della crescita economica Messa in campo Inoltre Una serie di iniziative Per le politiche E i servizi sociali Come contributi Per minori E le famiglie in difficoltà Tra cui sostegni Per affitti e utenze Più le risorse Per il mondo Della disabilità E della non autosufficienza Sulle infrastrutture Invece Il governatore Tra gli altri Ha ricordato Lo stop ai cantieri Sulla 14 E la Fano Grosseto Per la quale c'è un ritardo Ha precisato Sulla progettazione E ancora Il protocollo d'intesa Per il porto Aeroporto E interporto Nonché il risultato Conseguito Con i fondi Del PNRR O duplicati Da 20 a 156 milioni Destinati All'autorità portuale Dell'Adriatico Centrale E cioè Per Ancona Pesore San Benedetto In un territorio Come quello colpito Dal sisma Dal cratere sismico Le infrastrutture Sono essenziali Perché sono territori Bellissimi Con delle altissime Potenzialità Ma per la gran parte Irraggiungibili Se un territorio Irraggiungibile Il recupero Di quella Che è stata Una vita sospesa Per 5 anni Diventa difficile Se non le metti In condizione Di tornare fortemente Competitive Certamente C'è qualcosa Che non va Che è mancato E secondo il mio Punto di vista L'utilizzo Del PNRR È un utilizzo Che vede Coinvolte poco E male Le regioni Creando una possibilità Di non dare Le risposte Che il nostro territorio Aspetta moltissimo Da questo tipo Di opportunità Devo dire anche Che c'è un altro aspetto Che mi preoccupo Moltissimo Che è quello Che riguarda Soprattutto La Fano-Rosseto Dove Fatichiamo Nonostante Toscana Umbria E Marche Ritengono Questa infrastruttura Una priorità Fatichiamo A vedere Quei passi avanti Che avremmo voluto Vedere in un anno Non è mancato Poi uno sguardo Al lavoro Alla cultura Allo sport Al turismo E alla promozione Del territorio Fatta anche insieme Al testimonial Roberto Mancini CT Della Nazionale di Calcio Sono molto preoccupato Per quello che concerne Il lavoro Perché il lavoro È l'elemento essenziale Noi stiamo impoverendo La nostra regione Il nostro sistema economico Si sta impoverendo Di tante opportunità E questo sicuramente La pandemia Non ci ha aiutato A superare Quello che era Una crisi Di un sistema Che aveva Tante Tante concause Che si erano sommate L'abbiamo detto Tante volte Il credito La impossibilità Di avere Una grande banca O comunque Che prima avevamo È diventato Un limite Lo spopolamento Le aree interne Noi stiamo mettendo In campo Però una visione Abbastanza seria Forte e autorevole Tra l'altro C'è in discussione Con il Ministro Anche voi sapete La questione Relativa alla Zessa E che cercheremo Di portare avanti Tutti insieme Per garantire Un sistema competitivo Il rilancio Il sistema competitivo Alla nostra regione Chiaramente Sul turismo C'è una strada Molto importante Da percorrere Il turismo Però va chiarito Che non può sostituire Nell'immediato Soprattutto Nell'immaginario Immediato Quello che è La perdita Di occupazione Che alcune crisi Rischiano di creare E le immagini Della conferenza stampa Ci sono state fornite Dalla regione Marche Torniamo a Fano Dove oggi Si sono verificati Diversi incidenti Questa mattina Alle 7.50 Una ciclista È stata soccorsa Dal 118 Nel centro storico Di Fano A causa di uno scontro Con un'altra persona In sella Una bicicletta La giovane Non è in gravi condizioni Alcuni passanti Ci ha scritto Il nostro segnalatore Si sono lamentati Della velocità Con cui i ragazzi Attraversano il corso Nelle prime ore del mattino Per andare a scuola E poco dopo Intorno alle 8 Si è verificato Un tamponamento In via Roma Coinvolte nel sinistro Due auto Una Volkswagen Condotta da una pesarese Di 20 anni E una Peugeot Guidata da una Cinquantene fanese Entrambe le vetture Procedevano in direzione Monte Quando alla Peugeot Per svoltare a sinistra Su via Gozzi È stata tamponata La conducente È stata trasportata In ospedale In codice verde Il terzo incidente Invece Si è verificato Alle ore 17 A Sant'Orso Un fanese Di 56 anni Era a bordo Di una Fiat Punto E nelle mettersi In via Suncino In corrispondenza Del supermercato Non ha dato la precedenza A uno scooter Guidato da un 14enne Entrambi ne sono usciti In lesi Sul posto Anche in questo caso Sono intervenuti I vigili urbani Cambiamo argomento Al comune di Mondolfo È stato notificato L'ennesimo ricorso Del comune di Fano Sulla questione legata All'unificazione di Marotta A darne notizia È il sindaco Nicola Barbieri Che in un post pubblicato Sui social Spiega Questa volta È ricorso Al tarmarche Nei confronti Di una delibera Della giunta regionale Nella quale È stato stabilito Il passaggio Degli immobili Di Marotta Nord Al comune di Mondolfo Si tratta Dell'ex scuola Di via Damiano Chiesa E dei locali Dell'immobile Di via Ferrari Come comune Faremo posizione Assicura Barbieri Il ricorso Intentato Dall'amministrazione Comunale di Fano Proseguito il primo cittadino Oltre ad un ulteriore Dispendio Di denaro pubblico Rischia di vanificare L'opportunità Di riqualificare Gli immobili Con progetti e servizi Di cui potrebbero Beneficiare Anche residenti Nella zona Sud di Fano Che spesso Gravitano Nel nostro comune Spiace constatare Ha concluso Barbieri Che l'unico risultato Di quest'azione Dilatoria Sarà quello Di condannare Ancora questi edifici Attualmente in disuso All'incuria E al degrado In una fase In cui avremmo potuto Accedere a finanziamenti pubblici Per poterli Legittimamente Riconsegnare Alla città Nel quartiere Di Cucurano A Fano Proseguono I lavori Di estensione Della rete Dell'acquedotto Comunale L'intervento Permetterà Di allacciare Una quindicina Di utenze domestiche Ma sentiamo I dettagli In servizio Di Filippo Pucci Buone notizie Per i residenti Di Cucurano Da metà settembre Sono partiti Lungo via Attilio Regolo E via Falcineto I lavori Sull'estensione Della rete Dell'acquedotto Comunale Per 1,2 km Infatti Alcune famiglie Della zona Erano sprovviste D'acqua Se non quella Prelevata Dai pozzi privati Dopo numerose Richieste Da parte Degli abitanti Il comune Insieme ad Aset Hanno provveduto A far arrivare L'acqua pubblica Fino alle case Una zona dove potenzialmente Si potranno allacciare 15-20 famiglie Quindi siamo veramente Molto contenti È un progetto Che è partito Qualche anno fa Attraverso Come dire Un'analisi Delle esigenze Delle richieste Delle richieste Che arrivavano In comune In accordo Con Aset Quindi abbiamo Progettato Anche quali tipi E dove intervenire Ovviamente Le richieste Sono tante Continuano A essere tante E credo Che ci sia L'impegno Di tutti Aset Comune di Fano E tutti Gli assessorati Coinvolti Affinché Si possa arrivare A un'estensione Come dire Graduale Ma cerchiamo Di arrivare In tutte le case In maniera tale Che tutti Possano usufruire Dei servizi Come questo Molto importanti Sul luogo Del cantiere Presenti Oltre agli operai E all'assessore Fanesi Anche il sindaco Seri E i responsabili Di Aset Questo è un bel Segnale È un percorso Che avevamo avviato Già da qualche anno È un impegno Che ci eravamo Assunti Perché È fondamentale Creare la rete Dell'acqua È un bene Primario In modo particolare Poi in questi Periodi In questi anni Dove Specialmente In estate C'è una sofferenza Maggiore Quindi diventa Strategico Estenderla Ma ci sembrava giusto Che non ci fossero Ancora delle parti Della nostra città Che avevano questo problema Ovviamente Non lo si sta realizzando Soltanto a Cucurano A Sant'Andrea Anche in altre realtà Qui siamo Ormai Non dico verso la conclusione Ma con lavori Avanzate Grazie ad Aset Che sta seguendo Tutto il processo E il lavoro E quindi È una bella risposta Ai cittadini Di queste zone Che l'aspettavano Da tantissimi anni E adesso diamo spazio Alle vostre segnalazioni Con un video Che ci è arrivato Dalla strada comunale Di Mezzo A Rosciano di Fano Dove un residente Denuncia un atto vandalico Avvenuto sabato pomeriggio Ai danni Della sua abitazione Sentiamo anche il vivo L'audio Questa è che roba Questa è che roba Questo ieri pomeriggio Alle cinque E i ragazzetti Minuti da un altro quartiere Presumo Sant'Orso Varacarola Questa è la civiltà Serviranno 1.800-2.000 euro Per imbiancare Ci ha poi precisato Il reporter di strada Ed è vergognoso Tra l'altro Nel pomeriggio Ci sono arrivate Queste fotografie Che ritraggono Lo stesso atto vandalico Anche nella casa A fianco Ed ora Apriamo l'album Di Fano TV Perché questa sera Dobbiamo fare gli auguri A Maurelio Perelli E Albina Rondina Residenti a Fano Che sabato scorso Hanno festeggiato 60 anni di matrimonio E invece oggi Festeggiano ben 62 anni Di matrimonio Paolino Bigelli E Terzina Riccardi Nozze d'avorio Per questa coppia Di Marotta di Mondolfo Ovviamente auguri Da parte di tutti i familiari Dallo staff di Fano TV Subito dopo di noi Le previsioni del tempo E poi torniamo in diretta Per una nuova puntata Di Primo Cittadino Insieme al sindaco di Fano Massimo Seri Dunque rimanete Sintonizzati E noi ci rivediamo tra poco A più tardi A più tardi Grazie a tutti.